para farmaco il lunga and ci cosmetici ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerò i foglietti illustrativi dei parafarmaci più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il parafarmaco il lunga and ci cosmetici il lunga and ci cosmetici srl ultimo aggiornamento 2 maggio 2018 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni descrizione e caratteristiche allergeni componenti e ingredienti a cosa serve il lunga and ci cosmetici è un parafarmaco appartenente alla categoria degli anti ruganti age è commercializzato in italia dall'azienda il lunga and ci cosmetici srl informazioni commerciali titolare il lunga and ci cosmetici srl concessionario il lunga and ci cosmetici srl categoria di appartenenza anti ruganti age confezioni il lunga and ci cosmetici sericina 3 per cento siero intensivo viso anti age 30 ml indicazioni da usare quotidianamente per il trattamento delle rughe profonde descrizione e caratteristiche siero intensivo viso ricco di sericina integra la preziosa proteina della seta prodotta a como acido ialuronico yojoba vit b5 vit e formulato in modo da raggiungere gli strati più profondi della pelle ripristina l'idratazione mantiene la pelle compatta ed elastica proteggendola dagli agenti esterni l'alta percentuale di sericina contenuta può aiutare a rigenerare il tessuto cutaneo danneggiato non contiene siliconi parabeni e peg allergeni senza allergeni componenti e ingredienti sericina acido ialuronico yojoba vitamina b5 vitamina e fonte codi fa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato grazie a tutti grazie a tutti